Solitamente quando si parla di cinematografia si toccano aspetti come la resa dell'immagine, l'estetica, l'illuminazione e tanto altro. Nella fotografia del film che vedremo oggi questo approccio verrà completamente ignorato o quasi. Per la zona di interesse, film diretto dal regista britannico Jonathan Glaser che è conosciuto anche per aver diretto Under the Skin e per aver lavorato a diversi spot pubblicitari e videoclip di una certa importanza, vedremo come determinate scelte dal punto di vista registico e cinematografico vadano in antitesi con un sistema più accademico e classico per quanto riguarda la direzione della fotografia e della regia appunto. Piccola premessa prima di proseguire con il video, vi ricordo che il fine di questi contenuti a fare divulgazione cinematografica non sono recensioni ma tutto quello che sentirete sarà preso dalle parole del regista e del direttore della fotografia e adattato per il contenuto. Detto questo, continuiamo pure con il video. Il film è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Martin Amis, uno dei più influenti scrittori contemporanei e racconta uno spaccato della quotidianità spenserata della famiglia di Rudolf Voss, comandante delle SS e primo responsabile del campo di concentramento di Auschwitz. La moglie Edwig e i loro cinque figli all'interno di questa piccola villetta borghese a pochi passi dal campo completamente ciechi di fronte all'orrore che si sta consumando all'esterno di essa. Il film è stato sviluppato anche attraverso l'autobiografia di Rudolf che scrisse durante gli anni di prigionia dopo la caduta della Germania nazista e che attualmente è pubblicata con il titolo di comandante ad Auschwitz. Durante il lavoro di ricerca per il film gli autori hanno avuto modo di visionare diverso materiale dell'epoca tra documenti e fotografie. Sono state trovate 26 foto che ritraggono la famiglia Ossa all'interno del loro giardino e della loro abitazione, solo che in queste foto non è mai inquadrato il muro del campo accanto a casa loro, quanto piuttosto la piscina, il giardino e così via. Visionare questo materiale per raccontare questa storia ha portato più volte Glazer a pensare di abbandonare il progetto prima di iniziare, un po' per la pesantezza del tema e un po' per la responsabilità che si portava dietro. Cercò quindi di affrontare il tutto senza lasciarsi sopraffare dalle emotività ed è un po' il processo che ha cercato poi di trasportare all'interno del film. La storia quindi di per sé è abbastanza semplice, quello che il regista decide di farci vedere si limita solamente a qualche tensione relazionale e professionale e a qualche passeggiata in giardino. Superficialmente non c'è molto altro, in parte è la banalità del male a rendere il film disturbante, ma a dare ulteriore forza al lavoro di Glazer è quello che non vediamo su schermo, che viene solo percepito e raccontato attraverso l'utilizzo del suono, lasciando anche libera immaginazione allo spettatore nei confronti del fuoricampo. Ed ecco che improvvisamente la regia e la fotografia si annullano, si banalizzano di fronte all'importanza di tutto ciò. Probabilmente senza il lavoro del suono sarebbe stato un film completamente diverso. Il direttore della fotografia è Lucas Zalla, conosciuto ad esempio per il suo lavoro nei film Cold War e Ida, quest'ultimo ne ho parlato sul canale, trovate il video qui da qualche parte, che dopo aver letto la sceneggiatura rimase folgorato dall'idea. Fin da subito pensò che il modo migliore per raccontare questa storia fosse abbandonare l'idea di realizzare belle immagini e girare nel modo più ordinario e oggettivo possibile. Glazer desiderava un'estetica sì luminosa, ma al tempo stesso fredda, spietata e scientifica, perché sembrava il modo migliore per arrivare più vicini al nocciolo della questione, ovvero la facilità con cui le persone possono arrivare a uccidere. L'aspetto più importante quindi era quello di non rendere l'immagine il punto di forza del film, di non giudicare, di essere clinicamente distaccati di fronte ad una storia di questo tipo, utilizzando la macchina da presa come unico mezzo per visionare tutto. Ovviamente delle scelte stilistiche ci sono state, ci mancherebbe, però sono state limitate il più possibile. Tutto questo si traduceva nell'adottare un'espressione visiva completamente differente che abbracciasse la luce naturale anche quella meno gradevole. E qui devo aprire un attimo una parentesi. Dalle parole di Zal sembra proprio che il film sia stato girato completamente per tutto il tempo in luce naturale, senza l'utilizzo nemmeno di bandiere o diffusori per controllare la sorgente luminosa, ovvero il sole. Alle volte, in alcuni casi, quando si sente parlare di film girato in luce naturale, può anche diventare una strategia comunicativa. Non penso sia nel caso della zona di interesse perché a vedere dalle immagini si vede che non c'è stato alcun intervento fotografico, nel senso più classico del termine vero e proprio, ma è tutto giustificato. L'estetica, lo abbiamo detto, non è il punto di forza del film. Basta vedere anche in queste scene, notiamo come le finestre, ad esempio, siano tutte quante bruciate. E vedendo dal materiale del dettrio le quinte, sembra vero che Zaldon abbia utilizzato nemmeno una fonte artificiale, ma era tutto giustificato e concordato con il regista Jonathan Glaser. Citando Dickens, non esiste una fotografia bella, una fotografia brutta, ma esiste la fotografia giusta per il tipo di film e narrazione. Molti direttori della fotografia non vedono di buon occhio la frase film girato completamente in luce naturale e avrebbero anche ragione, tuttavia secondo me bisogna vedere il tipo di produzione che si ha di fronte. Lubezki, tempo addietro, disse in un'intervista che al giorno d'oggi con le camere di oggi è possibile girare un intero film in luce naturale. Potrebbe anche essere, non lo metto in dubbio, però è anche vero che questa frase la puoi dire quando magari hai tante settimane di produzione davanti e i budget a cui ha accesso Lubezki. Vi assicuro che un qualunque altro direttore della fotografia con cinque settimane di produzione questo ragionamento non lo potrebbe fare perché non potrebbe dire oggi la luce non è buona, giriamo domani. Ecco quindi non voglio mettere in dubbio le parole e il lavoro di Lubezki, anzi ammiro la sua bravura, io lo ritengo uno dei migliori direttori della fotografia contemporanei, però ecco bisogna anche contestualizzare il più delle volte. Nel caso della zona di interesse del film di Glaser sembra che sia stato girato effettivamente con luce naturale e si vede, ma penso anche che Zal sia un direttore della fotografia eccellente, molto bravo e basta anche vedere i suoi lavori precedenti per dirlo, non serve che ve lo dica io e sicuramente sapeva quello che faceva. Poi l'aver anche girato con macchine sensibili sicuramente ha aiutato. Con questo cosa significa che il direttore della fotografia non fa nulla? Assolutamente no, ma ci sono tutta una serie di azioni e decisioni che deve prendere e fare. Ad esempio scegliere i tagli e le inquadrature migliori per valorizzare una scena insieme al regista, settare le macchine e dirigere il suo reparto, oltre poi al lavoro di preproduzione e post-produzione. Idealmente girare in luce naturale significa saper anche scegliere le ore più adatte della giornata per girare una scena. Solitamente si parla di prime ore del mattino, quindi all'alba, o le ore più tardi del giorno con una luce crepuscolare. Nel caso della zona di interesse Zal ha scelto di scartare queste opzioni e ha scelto di girare nelle ore più dure, di luce più dura del giorno, quindi a mezzogiorno, a luna, alle due del pomeriggio e così via. Anche se le immagini non erano poi così tanto gradevoli alla vista. Notiamo ad esempio come in queste scene girate in esterna di giorno le ombre cadono in maniera netta e tagliente sui soggetti e sotto agli occhi. Era importante quindi scegliere il momento esatto per girare, per avere poi il sole in quella determinata posizione dove doveva essere. Quindi in questo film scordiamoci flare, scordiamoci contro luci, tagli interessanti, una profondità di campo ridotta, o insomma tutti quegli espedienti che servono a manipolare le emozioni perché in questo film non ce ne sono proprio. Tutto è ritratto così com'era lasciando che la luce evolvesse durante le riprese con le nuvole che andavano e venivano perché non si voleva ritrarre nel miglior modo possibile gli ufficiali in divisa. In effetti non c'è niente di bello da ritrarre con un profilmico di questo tipo. Quindi nel caso non si fosse capito niente luci, niente bandiere, niente diffusori, Zal non sarebbe nemmeno rimasto dietro la macchina da presa per gran parte delle riprese, Glaser quindi non voleva, il regista non voleva che il set assomigliasse a un set cinematografico, ma piuttosto ha concepito il tutto come se fosse un sistema di sorveglianza all'interno di una casa di nazisti. Casa ricostruita tra l'altro dallo scenografo Chris Hoddy tenendo in considerazione anche dove sarebbero state posizionate le macchine da presa. Macchine da presa che in questo caso erano circa una decina e tutte delle Sony Venice. Poi vi spiegherò anche il perché della scelta di questo tipo di macchine. Posizionate strategicamente su pareti o nascoste tre cespuglie all'interno di armadi. Una volta che sarebbero state pronte per girare gli operatori avrebbero abbandonato il set lasciato gli attori soli. Il film da un punto di vista più generale gioca con colori molto freddi, desaturati e spenti che vanno ad enfatizzare quella personalità spietata al tempo stesso e distaccata di questi personaggi. È una fotografia che principalmente si sviluppa su una colorimetria data dalle scenografie e dagli oggetti in scena. Notiamo infatti come negli esterni diurni l'illuminazione sia poco contrastata. In gergo potremmo definirla un'illuminazione daylight in low contrast ed è formata da verdi e blu. Quindi abbiamo uno schema analogo si chiama di colori ovvero un gruppo di colori che nella color wheels nella ruota di colori si trovano vicini tra di loro e alle volte vengono inglobati anche dei rossi che possono essere presenti in qualche vestito che compare in scena. E quindi otteniamo il cosiddetto split complementary come schema con il rosso complementare dell'azzurro e a sua volta concomitante con il verde. Zal racconta di aver monitorato tutto quanto quello che girava dall'esterno della casa attraverso una decina di monitor dove a fianco aveva anche il regista e i focus puller e gli assistenti macchine invece stavano nel seminterrato pronti a eventualmente operare e intervenire in caso ce ne fosse il bisogno. Lasciando al tempo stesso che solamente gli attori vivessero le loro vite in modo disorientante professionisti e nonna come ad esempio i domestici della casa che alle volte non sapevano neanche cosa stesse accadendo. Ogni scena era quindi contemporaneamente inquadrata da diverse angolazioni nei punti di vista differenti che vadano da quelli più larghi a quelli più stretti per garantire una continuità nei movimenti delle condizioni atmosferiche dei cambiamenti di luce in montaggio. Ma ora rispondiamo alla domanda perché le Sony Venice? Beh principalmente il motivo è uno solo soltanto oltre alla sensibilità delle macchine certo la gamma dinamica però queste macchine sono dotate di un sistema chiamato Rialto System che permette di separare la parte del sensore da quella di acquisizione e gestione del file rendendo la prima parte ancora più compatta e facilmente incasellabile all'interno di spazi molto ristretti. Una cosa disposa a pieno la filosofia registrica per nulla invadente di Jonathan Glaser. Le due parti sono collegate attraverso un cavo di fibra ottica che attraversava le pareti e usciva dalla stanza dentro la quale la scena sarebbe stata poi registrata. Il tutto è stato girato a 6k a 3200 iso per avere una migliore sensibilità illuminando gli interni sera ad esempio con al massimo lampada d'olio e candele. Gli obiettivi montati sulle Sony Venice saranno dei Leica Lights M08 che sono lenti molto nitide e girando ad un'apertura di diaframma abbastanza chiusa quindi con valori molto alti si otteneva un'immagine dove tutto era a fuoco quindi con un'ampia profondità di campo. Da alcune immagini backstage ho notato anche degli ingegni di tipo EZ però tutto quanto diciamo che era voluto per non far decidere allo spettatore cosa guardare e dove e cosa guardare per dare un punto di vista il più oggettivo e meno manipolato possibile che mettesse lo spettatore faccia a faccia con la realtà senza distogliere lo sguardo da essa. tutto doveva essere ben visibile sullo stesso livello dall'interno della villa cosa che le foto non avevano fatto. Per il regista quindi era davvero determinante toccare il più possibile la verità rendendola un'esperienza attuale e fare in modo che lo spettatore entri si medesimi un po' nei personaggi perché è facile dire io non sono così io sono sicuro all'interno del mio giardino ma ecco che il film ti pone in una posizione ti mette in discussione. Naturalmente per quanto realismo si cercasse di ottenere tutto quello che vediamo oltre al muro è stato ovviamente aggiunto in post produzione attraverso l'utilizzo di blue screen dove si poteva scegliere in parole povere lo sfondo che si desiderava e attraverso un ipad si poteva già pre visualizzare in fase di produzione come sarebbe venuta poi la scena in nel modo più totalitario possibile quindi tutto quello che si sarebbe visto anche attraverso le finestre della casa. Però solamente per una scena la macchina che hanno scelto di utilizzare non è una sony venice ma un altro tipo di camera che non nasce diciamo come a scopo scusate cinematografico. Abbiamo questo punto di vista che cambia radicalmente su questa ragazza che agisce di notte. Questa scena è nata attraverso un racconto di una donna che Glazer ascoltò in periodo di pre produzione del film e da bambina racconta che viveva in zona e sentiva di dover fare qualcosa per i prigionieri quindi usciva di notte e lasciava del cibo sparso per il terreno e quindi per questa scena che è girata interamente di notte Zal ha sentito la necessità di utilizzare una camera un po' particolare ovvero una FLIR camera che è una termocamera che registra il calore e quindi non registra l'immagine attraverso la luce a quanto pare permetteva di vedere dove l'occhio non riusciva a vedere e rimanendo anche dentro ai limiti che la produzione si è autoimposta ovvero quella di non utilizzare alcun tipo di sorgente artificiale per illuminare un minimo. Questa macchina purtroppo però ha dei limiti uno fra questi la risoluzione che è veramente bassa di conseguenza per diciamo per equipararla con la risoluzione della 6k della sony venice hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per cercare di alzare un po' la risoluzione e il risultato è quello che vedete a schermo e uno qui potrebbe chiedermi serviva veramente utilizzare una camera di quel tipo io non lo so fa di fatto che la produzione ha sentito che era perfetta per ritrarre l'essenza di quel personaggio un personaggio che all'interno di una storia molto cupa e asettica è l'unico a portare un po' di speranza e quindi calore. Con questo il video finisce qui spero vi sia piaciuto e vi sia interessato se così fosse fatemelo sapere con un like e fatemi sapere anche se avete visto il film cosa ne pensate vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei link per seguirmi anche su instagram ad esempio mi raccomando fatelo e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e detto questo noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti